professore ma questi fiorellini che stanno sbocciando che sono? sono i fiori dell'albero come tu ho detto prima dei mandorli, una pianta che da noi non è è prematuro adesso, non è diffuso però l'invioramento, il momento della fioritura è prematuro per i tempi è una primavera un po' anticipata, speriamo che resta primavera posso vedere pure che cadono tutti, non avremo il passaggio all'intruttoscente, addio mandorle addio mandorle veramente, che belli questi fiori, sono colorati questi fiori sono belli poi si vede proprio il colore rosa, si rosa proprio tipico, qualche giorno si vedrà ancora più stupendamente quando la gemma fiorale si apre e questo è proprio l'inizio e di la ci siamo al tramonto, è ancora spettacolare, dei monti picentini, come abbiamo detto precedentemente il mondo santo Stefano è qua sopra, insomma qua stiamo alla fine del paese di Vallata su una nazionale di Vallata questo non è un tramonto, è un paradiso, professor eh sì, là sopra come abbiamo visto, chiesa madre, insomma c'è un po' di... le chiese non lasciamo le perdere, guardiamo i fiori e pazzo sì, questa è la natura, la natura, il primo posto, guarda che belli questi colori ma questo che canta, professor, chi è? ah questo che canta e suona è l'amico nostro Archidiacono Bende Archidiacono? sì sì, ah Franco, non l'avevo riconosciuto è una bella, nuova canzone, la pizzica Vallatesa ah la pizzica che bella il signore porta l'identità del nostro paese, in giro sul territorio sì ok facciamo l'ultima inquadratura qui che bella il signore vedi fiori, questa è un'altra varianza di che cosa? sempre di mandorle però vedi questa fioritura bianca ah queste fiori sono bianche, come mai? eh non lo so a dir la verità vedi che là sopra ci sono ancora le mandorle che non ti ho state raccontate ah dell'anno scorso si purtroppo noi ecco vedi eh si vedono eh noi oramai non raccogliamo più fanno vedere da noi la da noi i frutti si perdono eh purtroppo chi più li raccoglie ci vuole anche tempo per lavoro per raccogliere però andrebbero raccolti ehi ehi un neggio che 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 Grazie a tutti